Si è conclusa a pieni voti la seconda edizione del Castellabate International Film Festival. Da 27 dicembre fino al 30, il festival si è svolto online, in streaming e in tv su Cilento Channel, canale 636 del Digitale Terrestre. Quest'anno, a differenza della prima edizione, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19, la manifestazione non si è potuta svolgere come di consueto, ma il lavoro dei piccoli studenti dell'Istituto Comprensivo di Castellabate meritava di essere valorizzato attraverso la visione dei corti. Il progetto è stato realizzato dall'assessore all'istruzione del Comune di Castellabate Elisabetta Martuscelli, in collaborazione con la dirigente scolastica Gina Moriello dell'Istituto Comprensivo Castellabate e il regista Gianni Petrizzo della Film Studio, e patrocinato dal Comune di Castellabate. Quest'anno il festival ha dato vita a delle novità, proponendo nuove sezioni cinematografiche, film a tema libero, lungometraggi, cortometraggi, film d'azione, documentari, videoclip e trailer, dando spazio ad autori nazionali ed internazionali che ieri hanno presenziato le premiazioni. Il programma ha previsto la proiezione online a partire dal 27 dicembre di sei lungometraggi, sette documentari, nove film d'animazione, 24 cortometraggi, tre videoclip e tre trailer. Selezionati in finale dopo l'iscrizione di circa 250 film pervenuti alla segreteria del festival, e ieri, 30 dicembre, si sono svolte le premiazioni per assegnare i trofei nelle categorie in concorso. Questo percorso rappresenta uno strumento di crescita e creatività per i ragazzi, oltre a una vetrina importante per il territorio cilentano. Lo dichiara l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Castellabate, Elisabetta Martuscelli. Sono i giovani cittadini, continua l'assessore, il futuro del paese a impegnarsi per valorizzare le bellezze di Castellabate. Il momento particolare non ci ha concesso di effettuare l'evento finale in presenza, ma abbiamo ritenuto giusto lanciare un segnale di positività. Era doveroso riconoscere i meriti a tutti gli studenti che hanno partecipato, con l'augurio che il nuovo anno possa riservare loro e a tutti noi un ritorno alla normalità il prima possibile. I riconoscimenti sono stati assegnati tramite delle menzioni speciali. I piccoli attori della Scuola dell'Infanzia hanno realizzato i seguenti corti, con relativi premi. A Zita, Plesso Santa Maria, giochi diversi, Plesso Santa Maria a primo piano, il gioco è una cosa seria, Plesso Alano, il tesoro nel baule, Plesso San Marco, il tramonto più bello, Plesso di Castellabate, il filo, Plesso di Ogliastro Marina. Per la scuola primaria i ragazzi hanno realizzato, per il Plesso di Zona Lago, il corto i genitori, mentre il Plesso di Santa Maria di Castellabate, il corto l'albero genealogico. La scuola secondaria di primo grado invece ha realizzato i colori delle emozioni, Emozioni a colori, Plesso di Castellabate, Due belle sorprese, Plesso di Santa Maria di Castellabate e La ragazza che non provava emozioni, del Plesso di San Marco. Per la sezione premi internazionali, il riconoscimento al miglior lungometraggio è andato a Megs and Julie Go On a Road Trip, diretto da Ryan Liebel, dagli Stati Uniti d'America. Per il miglior documentario è stato scelto Il segreto della Dea, diretto da Lorenzo Antonioni, dall'Italia. Il miglior short film, invece, se lo è aggiudicato, il film Fix for Italo, diretto da Bob Celli, dagli Stati Uniti. La migliore regia è stata assegnata a Terra Beach, diretto da Mike Gallant, dal Canada. Il premio al miglior attore è andato ad Andy Barreca, per l'interpretazione del film Triangle, diretto da Cataldo De Palma, dall'Italia. Per la sezione miglior videoclip, Silence to Silence, diretto da Daniele Cangemi, dall'Italia. Per la miglior animazione a vincere è stata Sofì, diretto da Anna Cangellaris, dagli Stati Uniti. Ed infine il premio per il miglior trailer è stato assegnato ad Equilibris with the Star, diretto da Davide Campagna, dall'Italia. Appuntamento dunque al prossimo anno, con la terza edizione del Castellabate International Film Festival. Con ieri abbiamo concluso il Castellabate Film Festival, la seconda edizione. L'auspicio è quello di ritrovarsi il prossimo anno in presenza. Quest'anno, questo 2020, ci ha messo a dura prova. Le nostre certezze sono vacillate, ci siamo sentiti spesso impotenti, in pericolo. Ma sono convinta che dietro le nubi c'è sempre il sole e in ogni parola di conforto, in ogni gesto di solidarietà, in ogni slancio ho visto il tentativo di ricordarci chi siamo. La consapevolezza che ho acquisito è che il senso della nostra vita si ritrova nel fare del bene anche con gesti piccolissimi e soprattutto nella relazione con l'altro. Sembra strano, sembrerà strano non poter riunire le nostre famiglie stasera, stare insieme fino a tardi. Forse anche da questo impareremo qualcosa. che probabilmente le distanze sono solo geometriche. Le festività fatte in questa situazione ci ricordano che proprio questo, insomma, sono le cose importanti della vita. Quindi un buon 2021 a tutti noi, ai bambini che si sono mostrati dei giganti, agli anziani che vorremmo abbracciare, buon anno a tutta la comunità di Castellabate, ai gestori delle attività commerciali, ancora una volta messi a dura prova, alle persone che stanno vivendo nella difficoltà, con l'augurio di ritrovarsi senza che ci sia bisogno di perderci e di rialzarci ancora più forti. Un abbraccio e buon 2021.